Ho qualcosa che potrebbe interessarti. Solo un vero pescatore avrebbe potuto prenderlo. Ma l'hai preso tu! Grazie, Eivor. Devo andare adesso. Torna pure a farci visita. Torna pure a farci visita. Torna pure a farci visita. Torna pure a farci-tacca, Torna pure a farci. Torna pure a farci-tacca. Borja il nostro corso di l'alte. Come van, torna, torna. Passata la torna pure a farci-tacca.